Bella androida a tutti, io sono Pepsi e oggi visto che è il compleanno di Franz, la intro la faccio io, che ne dite? Bella androida a tutti, oggi come avete sentito c'è Pepsi con me, visto che è il mio compleanno mi ha fatto questo regalo Non potevo mancare Grazie mille Prego Siamo proprio il mio amore E con noi c'è Cico Niente, oggi non ci... eccolo là Cico, oggi ho un po' in ritardo Ok Per il resto ci sono i ragazzi del... di come si chiama... del clan Ragazzi oggi scusate ma fa un caldo bestiale e non... guardate non ve lo dico neanche che casino è successo Abbiamo fatto una registrazione, eravamo prima con Pepsi, una registrazione bellissima Purtroppo, scusatemi il termine, è andata puttane Perché il programma che uso io è una vera... è come dice Emilio Fede, è una vera stronzata No, anzi, che figura di merda proprio Va bene Adesso vi farò vedere il replay perché veramente è stato bello Registro attacchi, eccolo qua Vi faccio vedere il replay Però purtroppo già sapete, avete visto come è andata a finire Vi alzo un po' il volume Come vedete ho fatto un attacco Praticamente tutti i guaritori e solo la regina Visto che la intro l'ha fatta a Pepsi Abbiamo... abbiamo usato la regina Pepsi Grazie amore È cominciato che... tutto bene l'attacco Sembrava andare alla grande Anche se stranamente la regina ha iniziato a girarci intorno e intorno Guardate, voi non mi crederete, bastava un barbaro in più Uno Uno solo O comunque mettere... ve lo mando un attimo avanti L'ho messo in velocità a due Vi farò vedere Perché questo secondo me è stato l'attacco più epico di sempre E sono proprio quegli attacchi che ti rimangono in gola Guardate attentamente adesso Niente, la regina è indistruttibile e continua ad andare alla grande Come state vedendo Poi all'improvviso è iniziata a rompere questo muro Ed ci ha fatto perdere veramente tempo sto muro Qua abbiamo usato le pozioni veleno Ha iniziato a spaccare di là E poi all'improvviso... Ah, qua abbiamo usato un attimo la pozione veleno ancora Siamo arrivati al 42% Abbiamo fatto il tipo come se fosse Valentino Rossi Tutti in piedi sul divano Niente da fare Non ce la faceva la regina Intanto però è rimasta sana Indistruttibile Perché? Lei è la regina Pepsi? Intanto Regina Pepsi Tu non devi salutare una persona Ice Guardate, guardate ragazzi 49% Guardate quanto mancava Un colpo mancava veramente Proprio in zona Cesarini Ma porca miseria Ne mancava veramente uno Intanto Io sto facendo le mie solite truppe Salutiamo perché oggi il mio compleanno Vediamo Bell'Android Android Scusate Ma Non lo scriverò Di nuovo Ok Ma Chissà chi risponderà Tu dici? Mua Facciamo una scommessa Chi risponde per primo? Cosa scommettiamo? Io dico Che arriva Ice No Io dico Il probabile Chi? Futuro cocapo Che dirà sicuramente Viva la patata No, no No? Non arriva Dirk? No, Ice Attenzione Il primo messaggio È Ice E allora Chi c'ha ragione Per penitenza Da un bacio all'altro Va bene A me va bene lo stesso Che per lo che vingo Da un bacio allo stesso Hai vinto Ice Ci ha fregato Dai Il bacio è stato dato Grande Ice Ice Questa me la paghi Comunque E soprattutto me la paga Dirk Che non c'è Dov'è Dirk? È un povero anziano Anche lui Anche lui sta invecchiando Stiamo invecchiando Futuro cocapo Futuro cocapo Una cosa Non me la ricordo più Salutiamo anche tutti gli altri Brava Come al solito Lorenzo Sì, Lorenzo Che qua Cello Cello Il capo Doviamo proprio salutarlo Il capo Sì, perché? Ok Sei arrabbiato con lui? No Il futuro cocapo E io il capo Non lo saluto Vabbè Arrancio Capo pilone No, no Scherzo Devil Devil Giusto Soprattutto salutiamo Devil Che Devil È il nostro fornitore ufficiale Di truppe ormai Mugno I nuovi arrivati Quelli che se ne sono andati Che io te l'avevo detto Hai visto di non salutare Quelli nuovi arrivati Mannaggia Comunque ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi ringrazio Se Se lasciate un bel like Giusto perché È il mio compleanno La grafica sarà un po' particolare Ah a proposito Non so se avete notato Che nel video Nel video precedente Quello di ieri La grafica È stata fatta da Pepsi Eh che capolavoro L'ha fatta lei Quindi Questo è il video del mio compleanno Il prossimo video però Che farò il più presto Non so Non vi so dire quando Verrà fatto Dedicato Ad Ice E a Devil E a Melissa E a Melissa Va bene ragazzi Io vi saluto Pepsi vi saluta E Franz Con Chico Vi dice Bell'Android E a Laurì